30, 1, 2, 3 Terza posizione, rimane Jacopo Duke rientrato al volo dall'errore, avanti a Nara Cast lungo i Birilli, 400 metri iniziali in 29 abbondante, gruppo che si va disponente a coppia lungo la corda, c'è Lupus, mentre nelle retrovie in terz'ultima pariglia di fuori Nicholson Trebb. Passaggio davanti alle tribune, il primo dei tre giri di pista, No Man's Land in vantaggio nei confronti di Impieto Diff alla corda, di fuori c'è Orfeo Jet che porta assieme tutto il treno esterno formato da Isaia Eppi, in terza ruota Nicholson Trebb, poi Osiride Ron ancora Norris griffa la retroguardia di quelli larghi dai Birilli. Non guadagna molto Nicholson Trebb che rimane in terza corsia sul passo perché davanti No Man's Land ha sveltito la cadenza, si mantiene in netta evidenza No Man's Land quando si va di fronte dopo una frazione in 31. chilometro iniziale molto svelto i primi 1.200 con l'errore di Orfeo Jet che crea imbarazzo a tutto il gruppo che si sfalda. No Man's Land continua a camminare, un altro 29 di fronte quando si viene a poco più di 800 metri dalla conclusione, si mantiene in netta evidenza la fatta pesare a Nicholson Trebb per larga parte in terza corsia e ancora lontano a testa tre lunghezze. Con per linea esterne pure Isaia Epice 29.3 anche non scritto da di là sino al passaggio sul traguardo per la penultima volta No Man's Land in leader quando si va di fronte in netta evidenza costringe al calo completo Nicholson Trebb. Quando si è di fronte No Man's Land in largo vantaggio su Impeto Diff, No Man's Land che attacca gli ultimi 400 metri di corsa con tre lunghezze di margine sul primo degli avversari. No Man's Land che se ne è andato dalla compagnia a metà della piegata finale, Impeto Diff è ancora in seconda posizione su Jacopo Duke, Nara Cast all'ingresso a retta No Man's Land che è isolato in avanti mentre fa l'arrivo in mezzo alla pista anche Lupus per i piazzamenti perché per la vittoria No Man's Land la chiude in un walkover così come l'altro handicap anche questo è un vincitore scritto sin dall'avvio No Man's Land che vince facilissimo davanti a Lupus che regola per il secondo a distanza Jacopo Duke. 59 anche l'ultimo giro, qualcosa di meno per No Man's Land che fa 14-4-2 mila e quattro coi nastri. Una media di tutto rilievo assoluto per No Man's Land che vince faccia e torna a successo dopo qualche mese infruttuoso. Il numero 10 sul tabellone al primo posto, il training alla guida di Pietro Gubellini, colore della scuderia Gardesana per la fide cocktail jet. Al secondo come detto Lupus, al terzo Jacopo Duke, 10-9-2 l'arrivo della nona.